Buonasera, un saluto a tutti e un grazie particolare ai relatori e ai componenti del Comitato di Indirizzo Scientifico per la Redazione del Codice Unico Tributario, un comitato che vuole affrontare un'opera titanica come il riordino delle leggi tributarie italiane, che sono una selva quasi inestricabile, per portarle in un codice unico. Con queste parole Gianni Letta, presidente dell'Isle, Istituto per la Documentazione e gli Studi Legislativi, ha introdotto la presentazione in videoconferenza del Comitato di Indirizzo Scientifico per la Redazione del Codice Unico Tributario, progetto scientifico profondamente evoluto da Assolding. Oggi possiamo dire che è una giornata storica, le riforme tributarie si fanno ogni 40 anni. Perché dopo 40 anni noi pensiamo di poter fare una riforma tributaria? Perché in questo momento particolare ci siamo resi conto quanto bisogna essere vicino ai cittadini e per essere vicino ai cittadini ogni cittadino deve sapere perché paga un'imposta, perché paga una tassa e per quale motivo il recupero di un'evasione fiscale può agevolarlo nell'aumento della qualità e del miglioramento della qualità di vita. Scopo dell'importante iniziativa scientifica è quello di individuare l'intera disciplina legislativa vigente in materia tributaria e raccoglierla in modo coordinato e sistematico alla fine di assicurarne massima chiarezza e piena comprensibilità. Le norme devono servire a guidare i comportamenti di tutti, i cittadini, imprenditori, funzionari della pubblica amministrazione, le istituzioni, ma per far questo non ci si può appellare soltanto al fatto che non è messa l'ignoranza della legge. La legge deve essere comprensibile, deve essere soprattutto chiara quali sono le norme vigenti. Il codice è un modo, non è tanto amore per Napoleone o per la tradizione amministrativista francese, ma è un modo per semplificare, non tanto semplificare il sistema, ma semplificare la lettura del sistema. Al progetto che intende rispondere ad un'esigenza da tempo largamente avvertita, sia tra i contribuenti sia nelle stesse istituzioni pubbliche, partecipano i simi esperti del settore. L'ISL, forte della sua esperienza pluridecennale nell'accampo della tecnica legislativa, già dallo scorso anno ha svolto un'analisi complessiva sui testi unici coordinata dalla professora Salerno ed ha pubblicato originali proposte legislative che costituiranno il punto di partenza per questo lavoro di raccolta e di sistemazione delle norme tributarie vigenti. Ci dice che sfida è questa? È una sfida complessa, una sfida difficile perché i problemi da affrontare sono tanti. Bisogna dare ordine a un sistema estremamente intricato e caotico. Dovremo mettercela tutta, avremo la necessità di avere il contributo degli esperti, degli operatori del diritto, dei magistrati, dei soggetti che operano davvero, dei commercialisti per esempio, e questo ci consentirà di avere il polso della situazione e riuscire con un lavoro progressivo, perché la nostra intenzione ovviamente è non fare tutto subito, ma partire progressivamente individuando alcuni settori cruciali, iniziando da questi e poi proseguire per un lavoro complessivo. All'iniziativa ha aderito anche l'Anti, associazione nazionale tributaristi italiani, mediante il supporto della professora Pietro Selicato. Fare un testo unico è un lavoro enorme sul piano materiale, quantitativo, ma poi c'è tutta la rigaduta sulla politica che deve voler recepire non solo il testo di un documento come questo, ma anche l'idea di scegliere una strada che sicuramente è la meno rapida da percorrere. Si fa presto a fare una riforma che settorizza una certa serie di misure e lasciare tutto il resto così com'è. E invece, appunto, come ho detto poco fa, quello che conta secondo me è dare le fondamenta per poter fare poi tutte le riforme che si vogliono e che la politica potrà scegliere, ma avere delle basi concrete e chiare su cui poter operare.